ciao eccoci alla terza puntata del racconto ma chi me l'ha fatto fare nella seconda puntata io vi ho lasciato con un po di suspense con missis albi che stava per incontrare un uomo molto più giovane di lei e anche di un ceto sociale inferiore al suo ma chi è quest'uomo quest'uomo si chiama david mcconnell figlio di immigrati irlandesi laureato in chimica trova lavoro non come chimico ma in una casa editrice che pubblica bibbie e quindi lui diventa un commesso viaggiatore cioè lui tutti i giorni esce di casa con le sue bibbie in una valigetta bussa alle porte delle case cercando di vendere le bibbie e ovviamente gli inizi non sono facilissimi lui è molto bravo a vendere a una bella parlantina è sciolto è simpatico è gradevole l'importante è che qualcuno lo sia ascoltare gli apre la porta è che purtroppo visto che come tutti agli inizi hanno sempre diciamo i quartieri le zone più difficoltose anche nel suo caso gli è stata data una zona un po difficoltosa e quindi fa fatica a vendere quindi dopo un po di tempo pensa medita e dice ok allora io a vendere sono bravo perché se mi aprono 9 su 10 la bibbia me la vendo il problema è farsi aprire la porta come faccio a farmi aprire la porta deve scogitare qualcosa un escamotage un grima devo trovare il grimaldello che me la fa aprire questa porta adesso nel marketing si usa una locuzione che va tantissimo di moda magnet lead e lui sarà inventato quando io vi dico che mi si salvi ma anche lui erano avanti coi tempi parlo proprio di questo quindi che cosa è scogita lui ha una grande passione che condivide con la fidanzata lui è un chimico alla passione dei profumi quindi si mettono lì allestiscono un piccolo laboratorio casalingo e creano un profumo prendono delle boccettine riempiono di profumo lui va a mussare alle porte dicendo signora le regalo un profumo mi fa entrare e le porte si aprono perché i profumi erano rari costosi insomma non era una cosa che uno potesse comprare soprattutto in certi ambienti in certe famiglie quindi all'idea che avrà in regalo il profumo la donna apre la porta dice sì vabbè tanto poi tu me la raccolti ti mando via profumo me lo tengo e invece poi 9 su 10 comprava quindi le vendite aumentano gli editori sono soddisfatti lo promuovono lo promuovono capo area capo gruppo e gli danno delle persone da affiancare da formare prima a new york perché lui vive a new york e poi a poco a poco nel circondario finché arriva a winchester dove vive missi salvi dove ha il suo emporio che abbiamo detto è anche un deposito pacchi quindi l'editore fa arrivare da lei i pacchi con le biblie lui fa arrivare da lei i suoi profumi quando arriva si incontrano lui comunque è un venditore quindi va a trovarla a casa c'è anche l'avvocato mister albi e vende la bibbia vende la bibbia regala il profumo e si mettono a chiacchierare signor mcconnell aveva già capito da un pezzo che le donne erano molto più interessate al profumo che alle bibbie l'idea di lasciare le bibbie da dedicarsi al profumo un po' ce l'aveva ma aveva anche qualche remora quindi ne parla tra l'altro abbiamo visto no c'è questo emporio quindi lui comincia a pensare sì sì io potrei a parte lasciare qualche bibbia all'emporio ma potrei anche lasciare qualche profumo vedere un po' come va quindi lui e la signora e missi salvi si danno un appuntamento per rivedersi e parlare di affari vedere come gestire questa cosa siamo nel 1886 un anno particolare per gli stati uniti per new york soprattutto perché finalmente dopo dieci anni arriva il regalo che la francia ha promesso agli stati uniti per celebrare il centenario della indipendenza dall'inghilterra dopo dieci anni finalmente è pronta la statua della libertà che arriverà a new york un po' per volta pezzi e poi viene montata inaugurata nell'ottobre e non è l'unica cosa che sta scaldando gli animi ci sono delle novità in giro le donne hanno visto riconoscere alcuni dei loro diritti in alcuni stati addirittura votano quindi c'è molto fermento e la signora albi questi fermenti di sente lei ormai alla sua il suo emporio le sue cose forse anche un po adagiata forse voglia di novità e questo giovane di vent'anni più di lei pieno di entusiasmo che anticipa il marketing senza saperlo e dal loro incontro nasceva qualcosa di veramente rivoluzionario per loro e anche per me perché ha inciso sulla mia decisione ovviamente tutto questo quando ve lo racconto nella prossima portata la quarta che giuro sarà l'ultima però il proverbio cosa dice non c'è due senza il tre il quarto viene da sé e quindi quarta puntata ultima sicuramente mi impegno però la quarta puntata vi racconterò tutto oggi vi lascio ancora un po di suspense vi ricordo che signor mcconnell ha 20 anni meno di missi salvi ciao vi aspetto vi aspetto